Salve a tutti e benvenuti in un nuovo video Oggi video unboxing di una cosa che aspettavo da un sacco di tempo Sono tre libri e sono giganteschi e pesanti Sto parlando di questi libri qui Quindi adesso andremo ad aprirli Sono pesantissimi e vengono da Amazon UK Il primo è questo qui, che è il primo che mi è arrivato E niente, sono in sacco in sacco contenta Ok Oh mio Dio Oh ma è bellissimo, pensavo che fosse dorato Harry Potter e la pietra filosofale Questa è l'edizione illustrata in inglese Perché su Amazon UK c'era il 50% E le illustrazioni sono bellissime Ovviamente questo è in inglese Io ce l'ho già in italiano però Appunto c'era questa offerta e ho deciso di prenderlo in inglese Proseguiamo Questo dovrebbe essere il secondo Ah, è troppo bello Mi sento, io come in preda, non lo so Mi sento come una quindicenne Oddio Ok Harry Potter è la camera dei segreti Questo qui non lo avevo in italiano Perché qui costa davvero troppo Invece questo l'ho pagato solo 14 sterline E quindi è bellissimo È bellissimo Che belle le immagini Mi faccio vedere qualcosa Non so se si vede Oddio ragazzi è troppo Ragazzi è troppo bello Troppo troppo bello Ma Passiamo a quello che tutti stiamo aspettando Senta No, bellissimo Ma quanto è grande questo È bellissimo Oddio Questo è meraviglioso Il prigioniero di Azkaban è il mio preferito Non vedevo loro uscisse No, vi prego Vi prego Oddio È bellissimo Oddio, vediamo se c'è Uh, la scena La scena sulla neve È bellissimo Python Dovrebbe essere Python Credo di sì Poi la copertina di questo Mi piace tantissimo Tantissimo Questa è la prima Sono le mie preferite Assolutamente Quanti chi li saranno? Guardate quali costine Non sono bellissime insieme Sono felice Davvero felice Di averli presi In lingua Non so se c'è ancora l'offetta Il 50% non era solo su questi Ma in realtà era su tutti i libri di Harry Potter Mi sembra anche quelli delle varie casate Quindi se siete interessati Andate a darci un'occhiata Veramente non so se c'è ancora Però il 50% È insomma È il 50% Niente ragazzi In realtà è stato un unboxing Lampo flash Quindi niente Io spero tanto che vi sia piaciuto E come sempre Vi ricordo di iscrivervi al canale qui sotto Di lasciarmi un pollice In su se il video Vi è piaciuto Commentate Fatemi sapere Se voi avete già le edizioni illustrate Se non vedete anche voi loro Che esca il prigioniero di Azkaban Qui in Italia Noi ci vediamo la prossima volta E vi mando un bacio Ciao Noi ci vediamo 15 Noi ci vediamo Noi ci vediamo Noi ci vediamo